Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Ecco le parole inaspettate dell'ex concorrente del GF VIP sulla donna che avrebbe rovinato la sua storia d'amore, pesantissime accuse Purtroppo il concorrente del programma di Canale 5 ha visto naufragare la storia d'amore con la celebre subrette e ora, senza peli sulla lingua ha rilasciato un'intervista inedita in cui si è scagliato contro la donna che a suo avviso avrebbe causato la fine della relazione sentimentale nata al GF VIP A quanto pare l'ex VIP pone al cuore in frantumi.Il GF VIP 7 quest'anno regala tantissime sorprese, ecco che cosa ha detto nei giorni scorsi a un noto settimanale italiano l'ex concorrente sulla sua ex-fiamma dopo il filet nato nella casa più spiata d'Italia GF VIP 7, l'ex concorrente senza freni contro la sua ex.Come saprete nelle scorse settimane uno degli ex concorrenti del GF VIP 7, che per sua decisione è uscito dalla casa, è finito sulle riviste di cronaca rosa perché è stato fotografato in compagnia della sua ex I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci e diffusioni prima al ristorante e poi in strada Stiamo parlando di Marco Bellavia l'ex conduttore di Bim Bum Ben, che è stato paparazzato assieme alla sua ex Sheila Capriolo Il conduttore Alfonso Signorini aveva mostrato le immagini dei due assieme in una delle recenti puntate del GF VIP, e a quel punto l'ex VIP pone aveva detto che si trattava di una sola, sminuendo così l'importanza di quelle immagini L'ex inquilina della casa del GF VIP 7 che era seduto accanto a lui in studio, ovvero Pamela Prati aveva commentato l'evento dicendo, sei tu la sola Il motivo è che, come forse avrete saputo tra l'ex star del bagaglino e Marco Bellavia si era creata una certa complicità che sarebbe sfociata, a quanto pare, poi in una relazione L'intesa tra loro però si è stoppata bruscamente, quando Pamela Prati ha scoperto del flirt di Marco Bellavia con la sua ex Sheila Capriolo Per questo motivo l'ex VIP pone, senza peli sulla lingua, ha parlato del comportamento della signora Capriolo in un'intervista inedita, in cui si è letteralmente scagliato contro di lei . Le pesantissime accuse di Marco Bellavia.Marco Bellavia ha scritto una lettera sulle pagine della rivista di più alla sua ex Sheila Capriolo, attribuendo a lei al bacio che gli ha dato la causa della fine del flirt nato tra lui e la subrette Pamela Prati L'ex concorrente del GF VIP7 ha detto a chiare lettere che l'idea di aver perso Pamela Prati lo sta facendo soffrire tantissimi e che sono state le fotografie di quel bacio ad averla allontanata da lui Ecco le sue parole sul noto magazine. Quello che mi ha fatto è diabolico, senza ritegno e senza educazione alcuna Chissà se a questo punto Sheila Capriolo vorrà rispondere alle accuse di Marco Bellavia o meno e che cosa succederà in futuro tra i due ex Non ci resta che attendere per scoprire la verità.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti